Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 24 luglio. Vediamo quali sono i temi fondamentali della giornata. Intanto ovviamente il sì alla TAV, anche se detta con tutte le sue prudenze dal Presidente del Consiglio Conte. Questa cosa qui ovviamente spacca i grillini, soprattutto Di Maio, se ne fa interpreti dicendo noi rimaniamo contro, ma il problema è che se loro ne possono rimanere contro quanto gli pare, ma dovranno votare in Parlamento contro la TAV e in realtà il Parlamento è tutto praticamente tranne quello dei Grillozzi a favore della TAV. Il punto politico lo pone sia Sallusti sia altri sui giornali. Sallusti oggi sul giornale infatti dice, insomma innanzitutto abbiamo perso un anno di tempo e questo bisogna sempre considerarlo, però anche ha perso la faccia il Movimento 5 Stelle. Oggi Repubblica su questa vicenda dice in realtà il Movimento 5 Stelle non ha più un'anima, vuole governare a tutti quanti i costi. Invece Sorgi sulla stampa, cosa ci dice l'editorialista della stampa che è sempre molto acuto, devo dire Marcello Sorgi, dice in questa maniera in realtà è una mano che ha atteso il Presidente del Consiglio dopo i bisticci degli ultimi giorni il Presidente Conte, che sembrava il Presidente Grillino a Salvini, perché Salvini come sapete è molto favorevole alla TAV. Insomma esistono ancora i Grillini, si chiede Repubblica e Di Maio in realtà parla. Prima di parlare di Di Maio però il titolo molto interessante del tempo proprio sul CTAV è Conte apre alla TAV e chiude alle urne, è la sintesi di un pezzo di Franco Becchis sul tempo. Ma cosa dice Di Maio? Beh guardate, io ho letto un'intervista a Di Maio realizzata dal Foglio di oggi che mi sembra clamorosa, ma mi sembra clamorosa perché a differenza di quello che fa Conte quando parla si capisce poco e il suo aldomorismo è diciamo all'ennesima potenza, è quello che dice Di Maio, io ve lo voglio leggere con grande chiarezza, al Foglio di oggi. Salvini non adeguato al ruolo che ricopre. E poi parla della mozione di sfiducia, perché si faccia chiarezza e poi dice che dalla Russia emergeranno tanti altri dettagli. Insomma è una cosa che se non fa una crisi di governo questa, ditemi voi che cosa possa fare una crisi di governo quando il vice premier dice Salvini non adeguato al ruolo che ricopre. Io la trovo una cosa incredibile, o verrà smentita nelle prossime ore oppure mi sembra allucinante. Sul caso russi ovviamente la Repubblica ribatte come una pazza anche il Corriere della Sera, chi ha pagato il viaggio di Savoini e chi lo ha accreditato agli incontri. C'è una specie di grande giallo che si costruisce dietro a questa vicenda russa. Ragazzi è una pippa col botto. Oggi è straordinario il pezzo che invece fa Mattia Feltri, che vi consiglio. Sono venti righe in cui raccontano l'iter giudiziario della trattativa Stato-Mafia per l'ex ministro Mannino, in cui viene prosciolto a 89 anni dopo 25 anni di processi. La stessa cosa che finirà su questa cosa russia, in cui verranno coinvolti per anni e anni di processi. Vedremo come ne usciremo. Seconda importante notizia di giornata è il fatto che dopo 5 anni, non dopo 3 mesi, finalmente dopo 5 anni, qualcuno dice, lascia cantone. Mi sembra che lo dica Iacometti oggi sul Libero, perché avrebbe bloccato l'Italia. In effetti questo Anac è diventato una specie di impiccio per fare qualsiasi cosa. Ma la cosa straordinaria, e che vi segnalo, è quella di Repubblica. Dallo spazza corrotti allo sblocca cantieri, che è quello che ci potrebbe permettere in Italia di fare due soldi di PIL. Lo sblocca cantieri, secondo Repubblica, è criminogeno di impostazione salviniana. Quindi, vedete, guardate, quando pensate al Movimento 5 Stelle e alle critiche che gli fa Repubblica, c'è una specie di grumo, come direbbero loro, di impasto sinistra Movimento 5 Stelle, che va dal non far nulla, dai corrotti, dall'onestà, dal rodotà, rodotà, rodotà. Ve lo ricordate? Ecco, questo impasto è tutto uguale, è tutto identico. Movimento 5 Stelle, Repubblica che li critica tanto, ed è quell'impasto che sta lavorando in questo momento all'orrore, secondo me, degli orrori, cioè il governo PD, Movimento 5 Stelle, sul quale parla Di Maio in intervista al Foglio e dice, beh, insomma, io lo trovo contro natura, come se fosse invece pro natura l'accordo che loro hanno con la Lega. Però devo riconoscere a Franceschini, dice Di Maio, che sono dal 5 marzo, dal giorno dopo le elezioni, che va dicendo che questa è un'ipotesi che si può fare. Per Repubblica, quindi, il fatto che se ne vada via Cantone, riporta in auge la cultura della tangente. Vi è chiaro il concetto? La cultura della tangente, per cui si deve bloccare tutto, per cui bisogna avere l'ANAC, per cui bisogna avere i magistrati che controllano, la polizia che entra a casa vostra, gli arresti preventivi, l'agente provocatore. Cioè, io dico, potete anche essere d'accordo, ma è la cultura di una certa sinistra giustizialista che è perfettamente combaciante con quella del Movimento 5 Stelle che a parole fingono di criticare. Beh, io trovo geniale l'intuizione di Alessandro Giuri su un altro tema fondamentale che riguarda gli italiani che oggi vivono in Italia e che stamattina dovranno prendere mezzi pubblici, taxi, treni e venerdì gli aerei. E cioè che gli anarchici hanno fatto niente rispetto a quello che hanno fatto i sindacati. O meglio, i sindacati bloccano l'Italia molto più degli anarchici. Io dico, come cazzo gli viene in mente dopo il lunedì nero del traffico che si blocca la TAV per un attacco probabilmente anarchico? Poi si sa, il primo giorno, dopo due giorni non se ne parla più se ci sono questi anarchici o non ci sono questi anarchici. Beh, i sindacati con un gesto di banale buonsenso non rinviano lo sciopero. No, lo sciopero si fa. Io leggo il motivo per il sciopero, dello sciopero sul Corriere della Sera protestano per ridurre il divario nord-sud nelle infrastrutture. Il vero sciopero che è accettabile ai sindacati è per togliere il divario tra chi è un sindacalista e chi è una persona normale. Questo è l'unico divario in questo paese. Il divario di testa, il diario di lavoro, il diario di, come possiamo dire, di buonsenso. Come cazzo si può fare uno sciopero per evitare il divario di infrastrutture tra nord e sud? Non sono cazzi dei sindacati. Ecco, quando vedo questa roba dei sindacati, penso al passato, quando al posto dei sindacati, quando c'erano i sindacati appoggiati dalla sinistra e da quella cultura sindacalese che ci ha portato in un bel, guardate, è un percorso unico. Sindacati, sinistra, giustizialismo, Movimento 5 Stelle. È quella roba là. Poi oggi governa Movimento 5 Stelle e quindi facciamo finta di nulla. Salvini ha Bibiano e fa bene a esserlo, perché vedete, una delle critiche che si dice avete strumentalizzato Bibiano, io vi ripeto e continuate a guardare sul sito da quanto noi parliamo della questione veleno e da quante volte parliamo della questione Bibiano, però la questione fondamentale è che più c'è Can Can e più i magistrati si stanno rendendo conto che Porcile era quello degli assistenti sociali della Val Denza. Avete capito bene? Porcile! Per cui toglievano dei bambini ai genitori. Oggi c'è la storia di altri quattro bambini che sono restituti dai genitori. Allora vi dico io, se la strumentalizzazione porta questo, cioè se Salvini porta questo, ma ci potrebbe andare anche Belzebù, che vengono restituiti alle loro legittime famiglie, bambini che erano stati prelevati per incapacità genitoriale, già lì mi viene il sangue al cervello, incapacità genitoriale stabilita da una malata per cui è da un altro pazzo che prevedevano e vedevano instabilità genitoriale da parte degli altri. Poi si scopre che nelle loro vite private ne combinavano di tutti i colori e che i bambini venivano affidati ai loro amici. Allora, cosa fareste se è un vostro figlio? Pensate alle strumentalizzazioni. Io verrei strumentalizzato anche dal diavolo, da come si chiama quel film, dal Lucifer, pur di vedere, quel Lucifer avete presente, quello che c'è sulla serie di Netflix, pur di portarmi a casa figli sottratti alle famiglie naturali. Detto questo, su Bibiano spero che ormai siano tutti d'accordo, i giornali sono un po' cambiati, hanno fatto finta che fosse una battaglia. E lì l'impasto, e lo leggete, vi prego sul mio sito, ne ho scritto da morire, l'impasto di una certa sinistra ideologica che pensa che la famiglia naturale sia una stronzata, esiste, soltanto l'avvenire non se ne accorge perché è il giornale dei cattocomunisti, ma esiste. Travaglio contro Formigoni c'era da aspettarselo perché volete che Travaglio non se la prenda sul fatto che dopo 5 mesi di arresti a più di 70 anni, mi sembra 74 Formigoni vada ai domiciliari. Ovviamente la considero una cosa indecorosa, uno che è morto dal punto di vista politico e anche civile, e non può scontare gli altri mesi di galera ai domiciliari. E in realtà però non se la prende tanto con Formigoni, ma se la prende con i magistrati che hanno scelto questa cosa, fantastico. Ogni tanto i magistrati secondo lui sbagliano. Fantastico Fausto Bioslavo a proposito di magistrati che ci racconta il ricorso della procura di Agrigento contro la scarcerazione di Carola, in cui dice che sono state addirittura violate le leggi nel farla da parte di un altro magistrato, quindi questi magistrati non riusciamo mai a capire come ci si metta. Ultima cosa che riguarda tutti quanti noi è Boris Johnson, diventa leader dei conservatori, ne parlano un po' tutti, il tono dei giornali italiani che è un nuovo Trump, mi sembra che questo lo dica Repubblica, molto più interessante è Nicolas Farrell, che lo conosce bene e che sul giornale dice sembriamo tanto buffoni, ma buffoni non siamo. E chi prende il 60% dei voti dei conservatori e cerca di gestire entro il 30 ottobre l'uscita dall'Unione Europea e soprattutto la crisi iraniana delle petroliere inglesi, un buffone, come lo descrivono i giornali italiani, probabilmente non deve essere. Io direi che abbastanza tutto questo, se non un grande suggerito al mio amico Luca Donadel, che ho visto insultato da Wired, ma quando è Wired e quando questi sono i fighetti, i borga di Wired, manco mi ricordo come si chiama, che dicono che Luca Donadel, vi ricordate quello delle ONG che aveva scoperto per primo come le ONG lavorassero in mari libici? Beh, insomma, lo tratta come se fosse un russo e non dice che, perché adesso ci sono questi fact checker della minchia, fanno tutti i fenomeni, non dice che lui ha detto delle bugie, ma lui dice che le ha decontestualizzate. Adesso questo è il nuovo concetto, se tu non dici delle bugie, ma le decontestualizzi, sei uno stronzo. Allora, questo genio di Wired, il fenomeno, questo genio, perché Wired sei fighetto della Silicon Valley, a questo genio, leggete il pezzo, anzi non lo leggete, non spendete soldi per Wired, ma se voi leggeste quel pezzo vi rendereste conto come invece il povero Luca Donadel viene completamente decontestualizzato e sembra un fan, non so, di scrittori e filosofi nazi putiniani. Insomma, purtroppo, in questo mondo questi hanno sempre l'arietta di avere sempre ragione. e su Wired, e su Borghi, e su tutto, ti pontificano perché loro sì che lo sanno. Ciao!